What's up YouTube! Eccomi pronto per un nuovo video! Ti ho domotizzato l'esistenza! Oggi, in questo video particolare, vedremo la realizzazione di una morsa con dei semplici scarti di lavorazione. In che senso? E utilizzando solo quattro morsetti! Che dico quattro? Bastano pure due! I morsetti li ho protetti su un asciugamato. Eccoci amici, premessa sul materiale. Di solito, gigdime e componenti che andremo a riutilizzare spesso per il nostro laboratorio, si utilizza come materiale appunto il multistrato. Ora, il legno più adatto per utilizzare, diciamo, è quello che spacca ed universalmente considerato il migliore, è il multistrato di betulla. La differenza con un classico multistrato è che il multistrato di betulla è più stabile nel tempo e ha molti strati. Però, purtroppo, per noi maker, per noi maker amici, la cosa più brutta è che costa un occhio della testa un pannello di multistrato di betulla, diciamo, quello standard da 18 mm. Quindi, negli anni, io che cosa ho fatto? Non l'ho mai utilizzato, vi dico la verità, sul canale non ne trovate traccia. Perché? Perché è veramente molto costoso. Quindi, negli anni, ho utilizzato, inizialmente, il multistrato di pioppo, che come rapporto qualità-prezzo non c'è male. Però, l'unica bruttezza, passatemi il termine, di questo multistrato è che il pioppo è morbido. Infatti, nella falegnameria italiana è utilizzato tantissimo per quanto riguarda i fondi, dei mobili, cassetti, le parti che non si vedono, dei mobili pregiati. Perché, comunque, è sempre un multistrato. Ora, io negli anni ho trovato, ho mediato, con questo prodotto. Ne abbiamo parlato, ultimamente, anche nel video dove comprare il legno online. Se non l'avete visto, 5 minuti di vergogna, andate a recuperare. Dove sono finiti i valori di una volta? Utilizzeremo questo, io ce l'ho sempre, pure scatti, infatti, utilizzeremo degli scatti. Multistrato di pino fenolico, quindi multistrato marino, con faccia B, C. Quindi, vedete? Adesso vi metto in sovrimpressione pure due facce di questi. Quindi, questo, diciamo, è da considerarsi quasi materiale da carpenteria, amici. E fa, perfettamente, dal nostro scopo, un pannello del genere, in base dove lo comprate, grosso, quindi 2,40 per 1,20, costa intorno di 5 anni, 60 euro. Quindi, capirete che la voglia di fare progetti. Quindi, utilizzeremo questo materiale, vedete? Magari ha tanti difetti del genere, però per noi, a fare da testi, va più che bene. Perciò, amici, se progetti come questi vi piacciono, mettete un bel mi piace, se siete nuovi del canale, iscrivetevi, se siete iscritti e non, scopate la campanella. Vai! Abbiamo togliato le quattro parti. Che cosa abbiamo fatto? Siamo andati alla troncatrice per iniziare a sezionare della lunghezza dovuta. Queste saranno le due facce da 16 cm di larghezza per 45, tutto multistrato da 18, che abbiamo intestato alla troncatrice e sfilato al banco sega. Adesso, però, andiamo alla troncatrice e porteremo a misura. E qui sarà la base della nostra morsa, che sarà fissata al banco, provvisoriamente, in base a come ci servirà, e questi quadrotti li andremo a utilizzare come supporti, molto molto semplicemente. Andiamo a portare, a intestare, le due facce della morsa a 45 e la base, che manterrà tutto, a 50. Poi vi spiego il perché. Se vi starete chiedendo perché la troncatrice fa enorme polvere, anche dopo il video delle settimane precedenti per quanto riguarda i tre progetti semplici per implementare il laboratorio, sempre se non l'avete visto, vergognatevi, devo andare a comprare ancora la braca, la Ypsilon, vergogna. Adesso andiamo a creare il sistema di serraggio, che appunto utilizzeremo i morsetti. Questi sono i classici morsetti by parkside. Però vi dico la verità, ho questi due, che sono un po' più spessi, creerò la fessura, diciamo, l'incastro per poterli far passare, e quindi con il calibro, nel mio caso è 6 mm, faremo una fessura da 7 mm. In questo caso, vedete, questa è una barra da 5 e questa è una da 6, quindi da 7 mm andrà più che bene. Andremo a forare tutto insieme, quindi metteremo il nastro biadesivo, facciamo la misura all'incirca a 9. Questo lo andremo a forare con una punta, facciamo da 7 mm, Adesso, amici, questi due fori, diciamo, questi due scassi, vedete? li potremmo fare sia con il seghetto alternativo, sia con una sega a mano, io utilizzerò per praticità la sega a nastro. Questi qua li potete fare come vi pare, pure se non vengono precisi, tanto serviranno solo, fa scorrere i morsetti. Vedete? Vedete? vedete a che serve una morsa. mi sembra di stavere il parmigiano, il parmigiano. Adesso, amici, questa sarà la nostra morsa, voglio andare a fissare l'elemento da 10, così, vedete? che è più lungo, quindi, che ne so, faremo, non so, 4 cm di battuta. Ho fatto il centro, perché questa sarà la nostra linea di foratura, per quanto riguarda l'inserimento delle viti. mi dico la verità, avrei voluto utilizzare pure la ciana acrilica, però, riflettendoci bene, è meglio che ho più gioco. Ecco qua, mi sono segnato anche i due e mezzo, vedete? E metto in forza provvisoriamente, come vi dico sempre, solo, leggera, forza. E voglio dare una controllata con il mitico speed square, per vedere se tutto è a squadra. Per questo utilizzo la ciana acrilica, per una questione di velocità, però qua mi se lo sta chiamando, aspetto un minuto, qualche minuto, ho aspettato all'incirca 15 minuti, perché adesso andiamo a mettere le viti. mi aiuto con la morsa, mi aiuto con la morsa. Spacca! però amici, una cosa che mi sono dimenticato, come il somaro, perché la voglia di completare, e volevo smussare un po' questi angoli, Perché gli angoli, diciamo, è meglio non lasciarli mai vivi, magari stondati, non lo so, ma qui l'ho fissato, l'ho incollato, e poi dobbiamo fare pure qua, no? Vedete? Quindi dobbiamo andarle a smussare. E poi con questo, facciamo due rinforzi, come sempre a 45 gradi, per mantenere tutto saldo, e siamo pronti. con il mio amico, ma non lascia il mio amico. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti